ciao eccoci pronti per cominciare la nostra seconda diretta del martedì sera è il 20 febbraio sono le 21 e 30 questo è il canale dell'associazione culturale Maggiolina io sono Daniele Castelletti e da tanto che non dico come mi chiamo ma ormai lo sapete tutti e siamo pronti per la seconda diretta ho già aperto dietro di me lo schermo di gmail con la personalizzazione grafica che abbiamo fatto mezz'ora fa e parliamo di allegati vediamo cosa succede con gli allegati faremo un primo passo verso il discorso allegati perché desidero approfondirlo maggiormente magari in più serate e poi ci dedicheremo un po alle vostre domande perché so che ne avete sempre tante e il tempo a volte a volte è poco allora passo alla schermata di lavoro eccomi qua io ancora non mi vedo ma così dovrei essere rimpicciolito e lo schermo dovrebbe essere libero e quello che vogliamo fare ora è vedere cosa succede quando si riceve un allegato per cui noi adesso andiamo sulla casella di posta elettronica di outlook che ho utilizzato anche prima devo accedere mi sono dimenticato che ero fuori quindi as maggiolina chiocciola outlook punto it è già scritto faccio almeno di scriverlo io metto la password perché outlook as maggiolina chiocciola outlook punto it provo a usare un altro nome allora perché qui sono nella funzione crea account l'avevamo lasciato qui prima e quindi ecco qua siamo nel posto giusto allora as maggiolina chiocciola outlook punto it avanti ora digiterò la password eccola qua andiamo avanti ed entriamo quindi due account di posta elettronica diversi outlook da una parte e gmail dall'altra da questo qui di outlook desidero inviare un allegato quindi vediamo come mandare un allegato con outlook e quello che mi interessa questa sera è come ricevere e gestire un allegato e poi faremo faremo viceversa allora nuovo messaggio clicco qua sopra lo indirizzo al destinatario corso tablet 5 chioccio a gmail.com eccolo qua oggetto ti invio una foto testo ciao rubino ti piace questa foto punto di domanda daniele quindi sino a qui io ho utilizzato una un invio email normale ora l'allegato è giusto posizionato dietro alla mia schiena quindi sposto un po sposto un po la finestra ora impicciolito e sposto un po la finestra per riuscire a vedere il discorso ecco l'allegato di solito intanto ringrazio alfredo grazie mille alfredo per per la super chat grazie infinite di solito dicevo l'allegato è mostrato con una graffetta è come una cosa spillata attaccata con una graffetta insieme insieme al messaggio a ecco aldo come sempre aldo e michele sono i nostri sono i nostri due moderatori aldo di solito dice ragazzi fate domande inerenti all'argomento e lo dice giustamente questa volta dato che poi faremo domanda libera dice adesso qua potete chiedere quello che volete sappiate che i nostri moderatori sono severi perché gli ho chiesto io di avere massima severità quindi la chat è libera va bene per tutti però purché ognuno ne faccia buon uso nel senso se si viene per disturbare aldo e michele hanno già delega di chiudere subito questo discorso a beneficio di tutti quanti quindi sono coloro che ci rendono l'esperienza più piacevole bene andiamo allora sull'allegato quindi io ho già scritto il mio messaggio la graffetta indica che voglio aggiungere un allegato clicco sopra e mi dice allega da computer perché potrei allegare anche dal cloud dalla nuvola ma rimaniamo sulla terra in questo momento e alleghiamo da computer che col computer si apre la schermata qui del mio computer con un sacco di di foto perché io queste sono quelle che uso nei download cosa voglio mandare dall'altra parte voglio mandare dall'altra parte andiamo in documenti andiamo in immagini a mandare qualcosa di vediamo un po mandiamo una foto del lago di manto le avete le avete viste straviste ma facciamolo facciamolo di nuovo quindi mando questa foto io ho scelto di allegare un immagine ora c'è un tempo di attesa affinché il mio computer carichi su internet queste immagini vado torno a ingrandire la schermata per vedere ecco se si vede meglio qua questa barra azzurra che va a riempimento è il caricamento durante questo caricamento la linea rallenta tant'è che il video in questo momento è bloccato quindi in chat adesso vi preoccuperete perché direte daniele caspita ma cosa sta succedendo intanto che carica io scrivo ora ora riparte perché la mia linea telefonica sta ecco che è proprio saltata la linea ma io continuo a parlare perché la registrazione è in corso per cui poi metterò la registrazione ora avvio di nuovo la trasmissione dico di sì perché il caricamento del della mia foto sul mondo internet ha creato una un sovraccarico della linea telefonica che è saltata ora ora riprende c'è qualche qualche istante di di attesa e poi ripartiamo allora sto ripartendo sto scrivendo in chat in modo che possano che possano attendermi eccomi qua che si comincia a vedere qualcosa quindi lo ridico ragazzi in questo pezzo non ho detto niente di particolare nel pezzo in cui non ci siamo stati non mi avete visto non detto niente di particolare ma l'ho comunque registrato per cui quando questo video verrà ricaricato verrà caricato in alta definizione si vedrà anche questa parte che ora è rimasta nascosta e semplicemente l'ho tirata un po lunga finché fosse ricollegato tutto quanto e dicevo che la linea è saltata nel momento in cui ho caricato il mio il mio allegato la mia foto è partita dal mio computer è uscita attraverso la linea del telefono per andare su internet questo ha causato un sovraccarico perché si è accodata insieme alla alla trasmissione dello stream e per il computer per la linea è stato troppo e mi ha chiuso la linea però abbiamo resistito siamo ancora tutti qua grazie di aver aspettato e adesso possiamo proseguire quindi io rimpicciolisco la mia finestra e tecnica e torno quindi ci ritroviamo qui nella posta elettronica dove finalmente è stato caricato un allegato nel mio computer nella mia email ed ora la voglio inviare quindi è stato caricato su internet da outlook e ora inviero il il messaggio faccio invia e il messaggio va per cui quando invio un allegato questo occupa dello spazio delle risorse per uscire verso il mondo internet ed impiega un po di tempo se invece di una foto sola fossero state 10 avrei impiegato un sacco di tempo un sacco di tempo in più grazie augusto per l'uso della super chat grazie infinite allora vado di la imposta in arrivo per vedere se è arrivato qualcosa di qua intanto troviamo ci troviamo ancora al mare come come immagine e vedo che ho ricevuto una foto nello specifico qui mi dice ti invio una foto vedo l'oggetto però se io continuo a seguire la linea della mia email vedo l'orario è arrivata alle 21 e 38 ma mi interessa questa graffetta quella graffetta indica che questa email che ho davanti contiene un allegato quindi non è solo testo ma c'è attaccato graffettato qualcosa questo mi deve preoccupare o no beh no non mi deve preoccupare però gli allegati potrebbero anche essere virus potrei ricevere del software non buono malevolo che possa fare danni nel mio computer per cui il mittente ma soprattutto il l'oggetto mi aiuta a capire se è il caso che io apra che io apra o no questa email noi in italia siamo più fortunati nel senso che i virus generalmente viaggiano in lingua inglese per cui già il fatto che l'oggetto sia in italiano mi aiuta a essere fiducioso poi se ha anche un senso compiuto cioè se è una cosa che ha un significato per me che ha una logica allora allora mi fido e quindi vado a cliccare sul mio messaggio aprendo e a questo punto apro il messaggio vedo chi è il mittente lo guardo sempre vedo chi è il mittente lo vedevo già già qua sopra vedo a chi è indirezzato il messaggio come abbiamo fatto sempre vi invito ad abituarvi a farlo comunque sempre leggo il testo ciao rovino ti piace questa foto e finalmente vedo la foto questa è qui perché è un allegato caricato dal dal mittente in questo caso da daniele castellette grazie infinite giovanna per l'uso della super chat grazie mille allora con questo allegato ora posso fare tre cose posso guardarlo semplicemente cliccandoci sopra qui in un punto qualsiasi faccio click e la mia foto si ingrandisce quindi gmail il mio gestore di posta mi come dire offre la visione dell'allegato della mia posta posso girando la rotella del mouse ingrandirlo quindi guardo la mia foto più in dettaglio devo dire che di giorno questa macchina fotografica fa delle belle foto di sera no perché è piuttosto vecchia ma di giorno ha una bella risoluzione mi piace ok e ho guardato la mia foto va bene quindi una delle tre cose che posso fare con l'allegato è quello di guardarlo e l'ho guardato voglio andare via di qua due sistemi uno muovo la freccia del mouse vedete che quando ho mosso la freccia del mouse qui sono usciti un sacco di altri comandi che poi potremo vedere ma quello che mi interessa è questa freccia qui che dice esci chiudi lui dice proprio chiude la freccia indica indietro quindi presumibilmente mi viene da pensare che torno indietro non uso queste frecce indietro e avanti all'interno delle caselle di posta elettronica la il gestore di posta elettronica gmail auto outlook o chi che sia libero chi che sia non gradisce l'utilizzo di questi di questi due pulsanti che noi siamo abituati ad utilizzare avanti indietro per sfogliare le pagine internet perché la posta elettronica ha un suo funzionamento interno quindi sarebbe meglio non usarli e muoversi all'interno del del sito quindi della parte della parte sotto in questo caso quindi potrei premere quello per tornare indietro ma anche premere sulla tastiera esc il primo tasto in alto a sinistra di tutti i computer è esc escape esci scappa vai via insomma vado fuori da questa situazione premo esc perché mi piace ed eccomi che sono tornato alla situazione precedente quindi mi restano da vedere per quanto riguarda il mio allegato ancora due cose che posso fare grazie luca per l'uso della super chat gentilissimi importantissimi per me qualsiasi importo va benissimo ringrazio anche chi utilizza paypal o utilizza liban durante la settimana durante il giorno grazie infinite per noi è l'unico e vero sostegno che che ci serve per andare avanti grazie romolo anche a te per l'uso della super chat grazie infinite ragazzi bene due cose posso fare ancora con la mia foto e sono indicate da queste due simboli uno la freccia che indica in basso indica verso il mio computer serve a dirmi che quella foto se voglio la posso scaricare fare il download all'interno del mio computer ora non lo facciamo perché la linea telefonica è già saltata prima evitiamo di farla saltare un'altra volta e quindi metterci tutti quanti di nuovo in difficoltà ma basterebbe cliccare lì sopra la foto viene scaricata vedrei qua una piccola barra dove verrebbe fuori il nome dell'immagine il nome dell'immagine è dscn8 eccetera eccetera che è il nome che le ha affidato la mia macchina fotografica quando ha scattato la foto grazie ancora romolo che hai incrementato il tuo importo di super chat grazie infinite ok e quindi la foto arriverebbe nel mio computer dove andrebbe a finire questo posso mostrarvelo rimpicciolisco notate che non chiudo il browser internet con la x ma lo rimpicciolisco col meno questo trattino qui serve a ridurre la finestra noto nei corsi che questa è una delle cose che si diciamo le prime le prime volte poi vanno un po' perse questa questa cosa qui viene usata poco premo lì la finestra è sparita non si è chiusa è stata messa da parte affinché io abbia lo schermo del mio desktop libero per potervi mostrare altre cose e in questo caso vado sulla barra delle applicazioni a prendere questo esplora file perché mi permetterà di andare a farvi vedere dove sono andate a finire le nostre foto quando vengono scaricate vanno a finire in download in scaricati eccoli qua ci clicco sopra due volte per aprirlo e qui abbiamo visto che ci sono già delle altre immagini che io ho scaricato in altre in altre occasioni ad altri scopi stanno lì quelle lì che sono qui in download sono qui perché a me più di tanto non interessano se le uso una volta per fare qualcosa e poi dopo ciao le abbandono le butto via se le volessi conservare download non è il posto più adatto perché download ripeto per me è una cartella così di scaricamento da internet che poi cancello ogni tanto senza stare a preoccuparmi più di tanto di cosa c'è dentro se le cose mi interessano ad esempio questo è un compito che ha ricevuto mio figlio quando è stato malato eccetera eccetera qui ormai viaggia tutto via whatsapp foto è diventato più digitale il mondo dei genitori dei bambini delle elementari questo lo voglio tenere lo prendo tengo premuto e lo porto in immagini quindi lo trasporto in un luogo più adeguato da qui è sparito perché per me questo è un luogo così temporaneo di facile cancellazione come dicevo prima ora quello è stato spostato in immagini e la prima di cancellare un'immagine la guardo bene mi rendo conto di che cos'è ed eventualmente lo faccio bene e fino qua ci siamo con il nostro discorso ora chiudo questo riprendo il mio gmail quindi seconda cosa che potevo fare era premere qui per scaricare l'eventuale foto all'interno del mio computer non l'ho fatto per non far saltare l'alena terza cosa scusate terza cosa che ci interessa particolarmente perché è un po una novità anche se ormai c'è da tempo è la nuvola questo simbolo qui si chiama o indice salva in drive drive inteso nel disco cloud nel disco nuvola diciamo in italiano che ci mette a disposizione gmail google perché siamo qui in gmail quindi questo è il cloud è la nuvola di gmail e quello è il simbolo che lo rappresenta per cui invece di scaricare la foto fisicamente all'interno del mio computer la metto da parte sulla nuvola clicco sopra qui non succede niente vedete che girano un po di colori e poi questo che prima era bianco ora diventa colorato il simbolo guardiamolo bene il simbolo eccolo qua il simbolo è rimasto sempre quello ma ora è colorato prendendo quello che è il colore del simbolo tipico di google drive vuol dire che ora la mia nuvola la mia foto è stata messa da parte sulla nuvola vantaggi di mettere le foto sulla nuvola o vantaggi di scaricare le foto allora parliamo dei vantaggi della nuvola visto che è la novità allora il vantaggio della nuvola è primo che l'ho potuta salvare quindi adesso queste mail io la potrei anche cancellare se non mi serve più queste mail qua si cancella si vuota il cestino ciao ciao la foto che mi hanno mandato è comunque salvata all'interno della mia nuvola il vantaggio è uno che non dovendo scaricarla non ho consumato la linea quindi non è saltato il collegamento e non è un vantaggio da poco due che adesso è a disposizione di tutti i miei dispositivi che sono in grado di raggiungere internet che sono in grado di collegarsi a internet quindi di questo computer ma di quello che ho giù in soggiorno del mio tablet del telefonino quindi tutti gli strumenti che possono raggiungere internet anche all'estero se fossi in Australia e ho a disposizione un computer posso andare nella mia nuvola nel mio cloud e vedere questa foto quindi l'ho messa là sopra lo svantaggio è che per vedere questa foto per disporre di questa foto devo avere internet se non ho internet se sono nella savana internet non c'è non si può fare perché non posso raggiungere internet quindi non posso guardarmi le foto ecco quello è l'unico lato negativo un altro lato positivo è che questa foto non occupa spazio su nessuno dei miei dispositivi non riempio nessun cellulare tablet computer né niente perché restano sulla nuvola che non è infinita ha uno spazio di 15 gigabyte se non mi sbaglio questa nuvola qui per le foto poi ce n'è un'altra ma ragioneremo in un secondo momento su quella per cui adesso ci siamo vedo che Roberto dice salva su Google Drive Google me lo segnala come pericoloso non lo è non credo che sia Google o meglio non credo non vedo e quindi non sono in grado di dirtelo è più facile che sia il tuo antivirus che magari ti crei qualche paura diciamo perché è un servizio di Google e quindi Google Drive mi sembra strano che siano loro a dirti ma che è pericoloso perché comunque non lo è dipende da che allegato si tratta in questo caso è una foto e sicuramente non lo è bene quindi io ho salvato il mio allegato ok cancello la posta elettronica quindi col cestino butto via il messaggio quindi questa questo messaggio e questa foto non ci sono più questo messaggio con questa foto non c'è più perché è stato cancellato se io avessi necessità della foto la posso raggiungere utilizzando il cloud quindi mi apro una scheda nuova per comodità quindi apro come si chiama il browser apro la pagina Google mi accerto di essere logato con lo stesso account che nel quale ho salvato la foto che era rubino felino quindi ho cambiato l'account la password come dicevo nel video precedente non ho bisogno di inserirla perché di questo account l'ho memorizzata e attenzione non mi vedrete facilmente memorizzare password di account Google ho memorizzato questa perché per me questo account specifico di prova non mi serve più di tanto non mi preoccupa più di tanto della sua sicurezza degli altri generalmente non memorizzo le password per avere il massimo della sicurezza e fino a qui ci siamo Bruno mi chiede inviare le foto a quanti megabyte non so dire qual è il limite Google e Gmail è uno di quelli che dà una più più capienza più possibilità semplicemente quando esageri a un certo punto te lo te lo dice ma c'è 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 spazio ti dice di utilizzare eventualmente quando sono troppo è un altro metodo non so però quantificarti quant'è lo spazio in questo momento diciamo che non ha senso mandare tante foto alle varie persone in quel caso se sono tante foto mi conviene prima caricarle sulla mia nuvola foto di cui parleremo in seguito e poi alle persone inviare un link dirgli guarda che se clicchi qui vieni in uno spazio riservato della mia nuvola fotografica del mio Google foto e vedi le foto di solito faccio così mi capita spesso di fare delle foto alle gare quando mio figlio corre col go kart e che le varie persone protagoniste mi dico dai mi mandi le foto dopo quindi io li conosco le carico tutte sulla mia nuvola e poi gli mando l'email e loro se le vanno a vedere se le stampano fanno quello che vogliono senza che io debba star lì a caricarle a mandarle a tizio a caio e quindi per perdere tempo le metto sulla nuvola e le condivido con chi voglio con chi voglio io ed è una cosa che abbiamo in passato già visto come fare e in tanti stanno usando questo sistema qui abbiamo anche attivato l'album della live quindi se cercate maggiolina album della live probabilmente lo troverete o maggiolina google foto le troverete questi video che sono ormai un po datati e quindi torneremo sul discorso bene allora dicevamo devo arrivare a vedere google drive perché voglio vedere la mia foto dove lo trovo google drive qua dentro pallini eccolo qua drive vedete il simbolo che è sempre lo stesso con gli stessi colori clicco mi si aprirà la nuvola quindi dal mio computer raggiungo la nuvola di rubino felino qui corso tablet 5 chiaccio la gmail.com dove ci sono un po di cose ci sono delle cose che utilizzo che ho utilizzato in passato anche in python e c'è anche la mia foto che posso cliccare e vedere scaricare mandare a qualcun altro fare fare dell'altro lo devo cliccare due volte per aprirla questa qui eccolo eccolo qua vedo franco che dice ma come si crea il link e arriveremo a vedere questa cosa franco ne parleremo nello specifico è piuttosto semplice in realtà chiaramente quando uno lo sa fare è più facile ok e quindi abbiamo raggiunto la nostra nuvola ma e se volessi raggiungere la nuvola con il telefonino o con il tablet diamoci con il tablet allora innanzitutto il telefonino o il tablet deve avere al suo interno lo stesso account rubino felino corso tablet 5 chiaccio la gmail.com se non ce l'ha e non la vede quella nuvola lì perché vede solo quelle che le nuvole dell'account che è inserito per cui mi dico ah non posso usare telefono perché quell'account lì di prova non ce l'ho sul telefono personale ma sul tablet sì perché lo uso per trafficare insomma per fare per fare prove oltre che per guardarmi i film allora quindi lo collego con il cavo che ho preparato qua quindi da una parte mi attacco al mio tablet eccomi qui e dall'altra mi attacco al computer escludendo purtroppo il mouse e quindi dopo sarò più impacciato nei movimenti mi collego qui bene i due apparecchi sono collegati devo andare ad aprire dove questo qui droidat screen se volete sapere ecco intanto che io chiacchieravo il mio computer ha riconosciuto il tablet lenovo lì in basso a destra c'è scritto e va bene l'ha riconosciuto bene se non lo faceva era un problema droidat screen per visualizzare il nostro apparecchio android sul desktop ci clicco sopra due volte c'è un video che ne parla specifico e anche qui potrete volendo cercarlo maggiolina e va a vedere tablet sul cellulare cose cose di questo genere vediamo però se arriva io ho chiesto che arrivi stavo aspettando dicevo caspita non arriva più invece eccolo bene ecco qui il mio tablet sullo schermo si può magari rimpicciolire un po gestiamo un po così bene voglio vedere se questo tablet raggiunge la nuvola e mi fa vedere il mio come come si chiama la mia foto allora freccia del mouse direi che è qua dentro google questa icona qua non mi sono ancora abituato però si è la è l'icona delle cartelle della cartella dei servizi google sul tablet o sui cellulari di ultima di ultima generazione allora vediamo cosa dice intanto lupo se carichi le foto su google foto in alta qualità lo spazio è limitato si esatto non so se ne state parlare parlando tra di voi ma sì lo spazio è limitato confermo ed è fantastico allora e ne parleremo proprio specificatamente in una video opposta voglio andare in drive quindi voglio andare lì sopra lo indico con la freccia e ora col dito qui sul mio tablet che ho qua sulle gambe che la scrivania è piccola mostro come si fa raggiungiamo google drive su questo tablet non sono mai andato in google drive e quindi adesso mi viene fatta una presentazione mi dice guarda ai 15 gigabyte gratuiti da utilizzare per i tuoi per i tuoi documenti per le tue cose qui da noi grazie roberto per l'uso della super chat ok e vabbè dico senti skip dico vabbè lasciami stare ho pito saltiamo qui tutte le storie fammi andare direttamente alla foto quindi ho cliccato col dito ho detto di salvare mi dice guarda che questa versione di google drive è vecchia devi fare un aggiornamento e allora esegui l'upgrade con questi aggiornamenti qua mi fanno impazzire sempre lo facciamo speriamo che la linea regga allora clicco lì sopra perché ora faccio l'aggiornamento sul tablet accetto e quindi dico vabbè il computer cosa c'entra e no la linea telefonica è sempre è sempre quella sempre attraverso la stessa linea vanno viaggiano i dati che sia utilizzata dal tablet che sia utilizzata dal computer non importa dico aggiorna ma la linea se immaginiamo la linea telefonica come un tubo dell'acqua che mi porta i dati e sempre quell'acqua è che mi arriva fortunatamente non sarà grande questo aggiornamento è 12,48 megabyte arriveranno velocemente sto controllando la linea sembra ancora buona speriamo che che si mantenga che si mantenga tale fin tanto che fa questo aggiornamento non me lo aspettavo l'aggiornamento ma del resto è così se una cosa la usate poco poi quando vi trovate ad usarla ecco che quasi sempre vuole essere aggiornato ok allora siamo quasi in fondo la linea sta reggendo tutto bene bene ora è arrivato questo aggiornamento per cui ha finito di consumare i dati l'acqua della mia linea telefonica ma deve fare l'installazione qui c'è scritto installazione quindi il tablet sta lavorando per rendere funzionante questo nuovo aggiornamento attendiamo che sia pronto allora ancora io sto vedendo il video il video di fianco tenendolo d'occhio vedo che abbiamo il solito minuto di ritardo per cui è un po diverso mi vedo parlare e muovere le mani animatamente mentre invece sono qui al momento a braccia concerti mi fa un po strano ecco che finalmente ha fatto l'installazione ora potrei aprirlo e basterebbe cliccare lì però non mi piace cliccare lì mi piace fare il giro da capo quindi mostrarti e mostrarvi il passaggio da capo quindi vado sul mio google la cartella dei servizi google come ho fatto prima dopo qualche istante si apre sul tablet si apre immediatamente il collegamento via a filo il computer ci impiega invece un po di più poi apro su clicco su drive quindi stiamo rifacendo la stessa procedura del prima prima dell'aggiornamento e poi adesso arriviamo intanto vediamo cosa dice giovanni il mio pc portatile non mi legge più il maro dopo guardiamo allora giovanni tra un po passiamo alle domande bene ed eccoci qua se vi ricordate queste erano le cose questa macchina qua me la ricordo questa macchina qua sicuramente ve la ricordate questa era la foto visibile sul tablet quindi voi state vedendo quello che vede il mio tablet l'ho raggiunto ho raggiunto la foto dal computer e ora ho raggiunto la foto dal mio tablet il bello di questa cosa qui e adesso torno indietro vado vado qua sotto torno indietro allora il bello è che io le raggiungo sempre con con i miei con qualsiasi mio strumento in grado di navigare in internet e il bello è che se io adesso mi trovo seduto sul divano col tablet e devo mandare una email a a qualcuno con questa foto quindi allegando questa foto se io l'avessi scaricata nel computer come si faceva tempo fa dovrei dirmi hanno scritto devo andare di sopra accendere il computer perché devo mandarlo dalla foto celluli dato che invece l'ho caricata l'ho caricata sulla nuvola e il mio tablet è in grado di usare lo stesso account perché è programmato sullo stesso account posso andare qua su google aprire i servizi google trovare gmail ora arriverà eccolo qua gmail vado ad aprirlo speriamo che non mi chieda di aggiornare anche questo perché allora aprire il mio gmail ok e dirgli senti mandiamo questa foto quindi clicco sulla matitina per cui sto usando la posta elettronica col tablet avevo schiacciare con le dita però sul tablet sto usando la posta elettronica col tablet dove c'è google e io adesso posso scrivere a all'altro indirizzo era as maggiolina as maggiolina chiocciola outlook outlook.it se mi ricordo bene oggetto quindi ora dove la freccia del mouse eccola qui passo sotto in oggetto e scrivo foto dal divano foto dal divano e sotto ho sbagliato ho cancellato la foto dal divano clicchiamo sotto col dito e sotto scrivo daniele quindi ok e fin qua ci siamo rimpicciolisco la tastiera da qua quella freccia lì che punta in giù in questo caso mi dice rimpicciolisci la tastiera e qua in alto la graffetta per l'allegato ricordatevi poco fa l'abbiamo fatto in outlook siamo andati a prendere gli allegati abbiamo preso una graffetta la stessa graffetta la ritrovo in gmail sul tablet per cui è proprio tutto la stessa cosa il discorso la premo con le mie dita e dico allega un file ora dovrebbe apparire eccolo qua allora allega file però la freccia del mouse si muove qua ecco allega file però il file dove ce l'ho io ce l'ho sulla nuvola e perché sono seduto sul divano meno male che ce l'ho sulla nuvola perché altrimenti dovevo andare di sopra allora posso dire inserisci da google drive perché la mia nuvola è google drive ci clicco sopra si apre google drive in piccolino qui con i miei file perché mi permetterà di mandarlo si vedono si vedono in piccolo devo ricordarmi i nomi allora questa è la macchina perché c'è scritto auto questo qui è quello di oggi di scn un po perché mi ricordo il nome e un po perché 21 48 non c'è la data quindi è oggi alle 21 48 per cui siamo siamo noi per cui col dito prendo quella lì questa foto non ha bisogno di essere caricata allora l'ho cliccata devo dirgli seleziona poi cliccoli sopra non ha bisogno di essere caricata quindi non c'è impiego di linea telefonica attesa di tempo affinché venga caricata non ne ha bisogno perché questa foto è già sul server di google e già sui computer di google perché l'ha in una nuvola e quindi lo fa in un istante e poi posso dire invia premendoli sopra quindi il mio tablet ha potuto usufruire di una risorsa presente sul 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 cloud sulla nuvola su google drive e direttamente attraverso internet allora lui mi dice senti ma vuoi questa chi riceve questa cosa cosa vuole fare lo può visualizzare cioè può guardare quella foto ma se io volessi dirgli che la può anche commentare o che la può anche modificare posso scegliere i comandi da qua ho premuto questa piccola freccina qua posso scegliere i comandi ma io siccome la foto è resta mia resta sulla nuvola dico può visualizzare e basta quindi teniamo teniamo quello lì e poi la invio e faccio invio e ora è andato questa cosa qui la ripeteremo la rivedremo meglio con con i computer ci sono delle sfumature link come diceva qualcuno da mandare per cui ci torneremo sopra ora spengo spengo il tablet e torniamo nel mondo del computer scollegato il mio tablet ho riattaccato il mouse e chiudo qua torniamo nel mondo del computer perché voglio vedere sul mio browser internet se allora chiudo anche google drive voglio vedere nel mio browser internet se in auto che è arrivata questa foto allora al momento non la vedo però io devo chiedere di aggiornare la pagina per vedere in questo momento se è stato mandato qualcosa allora non vedo un'aggiorna più interno che sarebbe auspicabile da premere vabbè posso andare i posti in arrivo cliccando su posti in arrivo in teoria chiedo l'aggiornamento della pagina vediamo ah beh no era già arrivata e qui rubino felino foto dal divano non mi ero neanche accorto perché erano tutti rubino felino non ci avevo fatto caso è già arrivata questa foto ci clicco sopra per vedere l'email ed eccola qua questa è l'email c'è scritto nell'oggetto foto dal divano dove lo vedo da qua questo e questa è la foto clicco sulla mia foto e vediamo cosa succede allora faccio clic sulla foto e mi verrà mostrata attraverso internet eccola qua questa foto è su google drive la posso volendo scaricare la posso volendo stampare non potrò né modificarla e né cancellarla perché non è mia la sto visualizzando sulla nuvola di un mio amico e posso vedere solo questa perché solo questa lui ha inviato inviato a me per cui è molto molto comodo questa questa cosa bene direi che ci fermiamo qua con l'argomento è vastissimo per cui avremo modo nelle altre serate di tornare a parlare di google drive di google foto finire un po la posta elettronica sempre con con tutte queste novità mix tra telefonini computer eccetera diamo un po di spazio alle vostre domande risposte a quindi alcune domande già sono arrivate e vediamo vediamo cosa mi avete chiesto quindi qua chiudo tutto dovrei uscire dai vari account per essere a posto ma dato che questo computer qua è di mio uso esclusivo e che diciamo sono tranquillo così chiudo direttamente con la x e torno sul desktop ora qui a fianco ho le vostre chat vediamo un po guardiamo l'ultimo cosa cosa si dice allora l'ultimo è luciano che dice l'ultimo uno dice ma perché non cominci dal primo che ti ha fatto la domanda perché i primi sono andati su per cui mi è più facile cominciare dall'ultimo altrimenti perdo un sacco di tempo a cercare il primo allora luciano dice se una password è stata salvata come può tornare segreta l'abbiamo visto proprio in un video precedente ci facciamo un video precedente guarda quello della settimana scorsa ma facciamo un rapido viaggio all'indietro vado sui pallini se mi ricordo per una settimana o l'altra vado sui pallini del mio parliamo di del browser chrome che è quello che utilizzo tutti i giorni ma questa cosa dovrebbe funzionare un po su tutti i browser però datemi il beneficio del dubbio perché bisogna bisogna poi verificare allora google chrome ha il servizio di salvataggio password e ovviamente di gestione password vado sui pallini che servono per fare le varie regolazioni cerco impostazioni eccolo qua faccio scorrere perché mi pareva che fosse un'impostazione avanzata clicco su avanzate si è allungato ulteriormente guardiamo al discorso password allora password e moduli impostazioni ecco qua gestisci password clicco su gestisci password qui mi appaiono tutte le password che ho salvato avete visto che sono tante anche se io non consiglio di salvare le password e ne salvo pochissime salvo nel computer solo quelle che mi interessano poco quelle che uso poco quelle che sono account che non richiedono un'estrema sicurezza perché non ci sono dei dati importantissimi per me le salvo e vedete che anche se sono pochi e anche se non lo faccio praticamente mai mi trovo che nel tempo ne ho salvate un sacco cliccando sui pallini della password corrispondente dicendo rimuovi questa password anche se è stata salvata poi torna ad essere privata perché il computer non la ricorda più ok chiudo e torniamo ad un'altra domanda vediamo cosa dice è new è new sì ma invece di mandare le foto su drive si può mandare su google foto si e si deve mandare su google foto le foto allora torniamo ad aprire in pratica e lo esploreremo bene nelle prossime dirette in pratica noi abbiamo due nuvole a disposizione da google e le troviamo qua dentro google drive e google foto allora google foto può contenere solo foto solo foto o video non altri documenti se io ci metto su foto e video nel formato ad alta qualità che mi invitano ad utilizzare loro ho spazio illimitato ci stanno su tutte le foto che voglio perché non c'è limite se invece le carico in un formato che interessa a me perché sono un fotografo perché le ho scattate così le voglio così e ho una serie di motivi allora lo spazio è di 15 gigabyte e quindi vai ad esaurirsi eventualmente ne posso acquistare dell'altro ma quasi tutti per uso materiale normale ma adesso non so i fotografi ma secondo me anche anche loro usano l'alta qualità e stop le caricano così va bene se c'è qualche fotografo magari ce lo scrive o se qualche fotografo arriva a vedere questo video magari me lo scriva nei commenti perché mi interessa l'altra cloud l'altra nuvola è google drive quella dove che può contenere tutto documenti pdf fogli di calcolo qualsiasi cosa io ho archivi nel computer ho disponibilità ho possibilità di archiviarlo anche su google drive sulla nuvola però ha una capienza massima di 15 gigabyte dato che può contenere tutto può contenere anche le foto però non ha tanto senso non è tanto furbo mettere le foto su google drive quando dall'altra parte hanno spazio illimitato per cui a me capita di averne qualcuna salvata avete visto che ho una macchina ok qualcuna salvata perché dalle email quando le ricevo via email è molto più facile metterle su google drive così cliccando lì che non fare i vari giri per mandarle su google foto e quindi raramente qualcuna ce l'ho messa ma generalmente sono documenti e non foto perché le foto le carico su google foto tantissime volte mi è stato chiesto ma da google drive posso passare in google foto? io non ci sono ancora riuscito se non scaricando nel computer e ricaricando in google foto per cui prima di caricare gestiamo bene questa cosa ma verremo a parlarne di google foto per cui ci arriviamo e fino qua ci siamo allora vedo Nicola che dice ciao Daniele ho un notebook il cui disco C di 29 gigabyte è pieno di programmi come si fa a liberare spazio sul disco per trasferirlo su una scheda SD? allora Nicola quei computer lì hanno un disco troppo piccolo in definitiva hanno una memoria troppo piccola sono quasi più tablet che computer anche se l'aspetto è di computer a tutti gli effetti quindi hanno una memoria interna molto piccola e ti limitano un po' nell'utilizzo del tutto perché 29 gigabyte come ti sei reso conto sono molto pochi certi programmi non possono essere trasferiti su qualsiasi altro disco se non il C quindi non possono essere mandati fuori oppure dovresti disinstallarli e reinstallarli nuovamente e in fase di installazione nell'installazione avanzata si chiama ti viene chiesto dove lo vuoi mettere in quel caso lo puoi indirizzare su una memoria esterna che può essere una pendrive che può essere una scheda di memoria SD come dici tu ma se hai la presa USB e ce l'hai credo anche un hard disk esterno quindi con un computer con così poca memoria è bene affiancargli un hard disk esterno e sfruttare al massimo i vari cloud e le varie nuvole in futuro i computer avranno meno bisogno di memoria perché ci appoggeremo tutto alle nuvole però in realtà adesso è ancora importante avere un computer con un hard disk più capiente perché come vedi altrimenti ci si sente un po' limitati allora vediamo un po' come diciamo Enzo non so se chiede a me dice perché non usi un account Windows come amministratore allora io ho l'account Windows come amministratore non mi piace loggarmi con Microsoft perché preferisco rimanere scollegato mi sento più a mio agio ma su altri computer lo faccio tranquillamente però non so se la domanda era per me allora allora Tiziano dice potresti parlare dei buchi di Windows 10? non sono in grado nel senso che ufficialmente non so quali siano le cose che non funzionano in Windows 10 in particolar modo mi vedete sempre lamentarmi tra virgolette degli aggiornamenti perché mi impediscono in parte di lavorare ci disturbano in parte di lavorare perché sono sempre i momenti inopportuni sarà che io lavoro sempre alla sera però anche prima devo cominciare con la diretta e alle 8.42 lui avrebbe voluto fare un aggiornamento il mio computer quando non era possibile perché alle 8.42 ero in diretta e soprattutto quando gli avevo chiesto di non scaricarli neanche invece lui lo ha scaricato lo stesso e me lo voleva fare proprio nel momento della diretta ecco questo è l'unico vero difetto che io ci trovo anche perché spesso gli aggiornamenti causano dei rallentamenti nel computer insomma se fosse una cosa che dovessi suggerire a Microsoft di gestire farei gestire meglio questa cosa gli altri buchi ce ne saranno sicuramente ma non noto cose particolari spesso io ho la fortuna di usare vari computer spesso i malfunzionamenti sono dovuti anche dal computer che hai davanti da situazioni caricate sul computer che hai davanti spesso non vorrei dire un'informazione sbagliata e quindi fare una cattiva pubblicità ma trovo che certi antivirus siano molto limitanti siano molto restrittivi per proteggerci che però ci mettono un po' in difficoltà l'utente medio che se la cava ma se c'è qualcosa di un po' diverso poi non sa più trovare la strada con tutti questi antivirus fa fatica lo vedo quotidianamente vediamo cosa altro si diceva quello dei buchi di Windows l'abbiamo visto qui dice delle rigidità che creano i suoi programmi di default magari ne parliamo in una volta successiva nel senso mi documento un po' e poi ne parliamo perché sicuramente è un argomento interessante grazie Tiziano adesso non sono in grado di farlo vedo che la linea è in difficoltà ma insomma speriamo che tenga duro ormai siamo arrivati quasi alla fine allora vedo Hermes ciao Hermes ah era Maria che ha fatto allora intanto vedo saluto Hermes dai che ho visto qua ciao Hermes mi fa piacere vederti in diretta ho il piacere di conoscerlo di persona allora ho il disco di pieno e rosso e ogni tanto c'è una notifica che me lo segnala mi dice non si può cancellare perché potrebbe fare danni al computer beh non puoi cancellare così diciamo Hermes così a caso devi eventualmente selezionare tu le cose da cancellare però dipende da quello che c'è dentro nel senso i danni al computer sempre puoi fare danni al computer quando cancelli qualcosa ovviamente in quel disco D ci sarà qualcosa e devi renderti conto di di come dire se è importante oppure no se serve al funzionamento del computer oppure no quindi bisogna guardare ok dai sta tenendo duro qualcuno dice che si è bloccato ma ancora ci siamo Hermes dice quando tento di cancellarlo dovrei vedere di cosa di cosa parliamo Hermes perché a volte lui ti dice guarda che potrebbe causare danni al computer ma è solo come un genitore molto apprensivo che dice stai attento a attraversare la strada ma certo che sto attento mamma però te lo dicono lo stesso perché non riescono a non dirtelo quindi il computer fa lo stesso ti spaventa un po' in modo che tu stia più attento a quello che cancelli magari stavi cancellando una cosa che hai scritto te e si poteva fare tranquillamente bisognerebbe vedere allora vediamo Gabriella cosa nei pensi di io obito un installer qualcosa del genere ti piace usare questi programmi o ne fai a meno ne faccio a meno trovo però che ci siano persone che lo usano che si trovano bene ma l'ho usato specie su Apple non questo in specifico ma qualcosa d'altro perché su Apple è più complicato disinstallare un'applicazione allora questi programmi qui potrebbero essere l'argomento anche questo di un video allora che cosa succede quando io carico nel mio computer un'applicazione chiudiamo lo schermo questo OpenOffice oppure che so Audacity ma qualsiasi applicazione Gimp la carico nel mio computer poi ho la possibilità di disinstallarlo con una con una buona facilità vado qui in Cortana scrivo installazione programmi e posso andare a disinstallarlo però la disinstallazione cioè la rimozione di tutto il software spesso non toglie qualsiasi traccia lasciata da questo software nel computer che so la cartella che lo conteneva spesso rimane alcune informazioni scritte nel registro di sistema di Windows che è quello che gli serve per funzionare per per gestirsi diciamo mantiene quelle informazioni quindi quando disinstallo un programma in realtà il computer non viene pulito come prima lascia delle tracce questo è il motivo per cui installo i programmi solo se sono convinto che mi servano se non tanto per il fatto che guarda c'è quel programma lì aspetta che lo metto poi magari non lo usi mai c'è l'altro aspetta che lo metto poi magari non lo usi mai a parte riempirlo fa un po' di confusione tutto questo metti togli metti togli o metti lì questi programmi di disinstallazione questo software di disinstallazione in teoria dice guarda che io disinstallo ma vado anche a pulire quelle tracce che ha lasciato per cui lo faccio meglio se lo faccio io lo faccio meglio dicono a questi software e ci posso credere però lo stesso di solito disinstallo e stop io sono uno che usa tanto il computer e che si trova ogni tanto a formattarlo perché ho preso un virus perché ormai è diventato troppo lento perché ho cambiato un pezzo e ho sbagliato qualcosa nel fare le cose ho messo Linux tolto Linux ho fatto della confusione quindi si formatta tutto e quindi automaticamente si pulisce per cui non mi preoccupo più di tanto di tenere tutto pulito tanto so che viene presto il momento in cui devo fare questo lavoro però trovo che siano una buona cosa e trovo che se ne può parlare possiamo provarne qualcuno nelle prossime settimane allora perché Google Photo carica anche foto provenienti da Whatsapp mi chiede Giuseppe in chat perché nelle nostre nei nostri telefoni tablet eccetera abbiamo Whatsapp e la maggior parte delle cose che viaggiano sui nostri telefoni sono foto e video di Whatsapp quante foto ricevete su Whatsapp quanti video battutine barzellette riceviamo quotidianamente quanti auguri di Natale Pasqua eccetera eccetera buongiorno i vari riceviamo quelli occupano un sacco di spazio sui nostri dispositivi tanto spazio per cui andrebbero ricevuti tenuti e inviati con maggiore cautela perché anche quando lo invio occupa spazio all'interno del mio telefono un'ennesima volta e anche nel destinatario e molte persone però non lo sanno e ne hanno milioni poi il telefono è pieno allora Google Photo assorbe volendo se è stato opportunamente impostato anche quelle immagini in modo che il tuo dispositivo sia mantenuto libero anche di quello spazio che viene occupato dalle immagini che ci mandiamo in Whatsapp spesso ci mandiamo immagini giuste foto che abbiamo scattate ai figli a chi vogliamo ma tantissime volte sono immagini carine ma di cui si potrebbe fare anche a meno gestiamole con maggiore attenzione perché riempiono di tanto i nostri telefoni allora facciamo l'ultima domanda beh saluto Alfa07 che mi fa dei complimenti dice che ci segue da poco benvenuto mi fa piacere e allora prendo Leo perché mi sembra di non avergli mai risposto di non aver mai visto una sua domanda per piacere se il telefono è quasi pieno la navigazione in internet è rallentata grazie sì perché se il telefono è quasi pieno in generale è rallentato il telefono stesso e perché comunque la navigazione in internet implica al telefono di registrare delle informazioni al suo interno se c'è poco spazio se non ce n'è la sufficienza chiaramente tutta la cosa si rallenta tutti i dispositivi tablet smartphone cellulari adesso non mi viene in mente altro se sono quasi pieni perdono in prestazione per cui vanno tenuti un po' libero allora dai l'ultimissima da Lupo ciao Daniele è possibile togliere la password iniziale di Microsoft non ti so dire o meglio fino a poco tempo fa si riusciva Windows 7 sì senza problemi Windows 8 all'inizio si riusciva c'erano qualche problemi ma si riusciva ora con tutti i vari aggiornamenti non lo so Windows 10 in alcune situazioni è difficile riuscire a toglierla in alcune non ci sono riuscito oggi non ti so dire perché ormai non mi è più capitato di provare in tempi recenti ma non è una cosa che vogliono farci togliere vogliono che noi accediamo ai servizi internet e quindi il cloud di Microsoft la posta di Microsoft e quindi creiamo account che di conseguenza hanno una password e quindi non è l'indirizzo che loro stanno dando all'utilizzo del computer dobbiamo abituarci a pensare che chi ci ha venduto il nostro computer allora noi abbiamo acquistato il computer e lo abbiamo pagato e nostro possiamo farci quello che vogliamo però dentro questo computer c'è un software che è della Microsoft e loro attraverso gli aggiornamenti attraverso questo software lavorano per se stessi per ingrandire le loro diciamo le loro presenze sul mercato e quindi non tutto quello che viene fatto è fatto per il bene dell'utente non solo da Microsoft questo in generale tutto il software che noi troviamo nel nostro computer è comunque fatto in funzione commerciale quindi viene venduto viene venduta la pubblicità e quindi tutti hanno un loro lavoro e cercano nel farlo di fare comunque il loro interesse senza esagerare però fanno le loro cose ci sono delle regolamentazioni in questo e quindi c'è chi controlla però comunque ognuno cerca di tirare dalla sua parte il suo lavoro commerciale Linux essendo software libero non ha questi problemi quindi non ti trovi in situazioni che dici ma perché facciamo così sarebbe più comodo fare cos'ha facciamo così perché conviene a qualcuno più che a te che usi il computer quindi questa è la situazione senza dire che è sbagliato è così perché va avanti così insomma da sempre si cerca di potenziare la propria presenza sul mercato e noi io stesso dico iscrivetevi parlate del mio canale eccetera eccetera perché anche a me fa piacere essere presente sempre di più su YouTube quindi ognuno alla fine fa un pochino il proprio interesse bene ragazzi vi ringrazio della presenza è stato molto interessante le domande e risposte è sempre è sempre un bel è sempre una bella cosa vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto a condividerlo a commentare a continuare il dialogo anche nei commenti anche tra di voi sempre nei commenti e a scrivermi email a info chioccio l'associazione maggiolina.it ad iscrivervi al canale perché per me è importantissimo parlarne amici parenti che so quando si parla di corsi di computer se vi viene in mente del nostro canale per noi è molto importante più siamo dico sempre più cose riusciamo a fare più siamo presenti con più strumenti con più cose e basta direi che ci siamo grazie a tutti ci vediamo nei prossimi giorni venerdì con il video nuovo e nei prossimi giorni con le registrate di questi due video in alta risoluzione ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti